La sensazione è che il rapporto tra imprese e burocrazia, imprese e giustizia in Italia non fosse dei migliori. Già c'era, anche a causa di tangenti e incomprensibili lentezze. Ma adesso sapere che l'Italia, nel confronto tra 26 paesi della zona... ...quart'ultima migliore solo di Messico, Grecia e Slovacchia, lascia l'amaro in bocca. Perché, secondo quanto rivelato da un'analisi elaborata dall'ufficio studi di Confcommercio, in Italia pare ci sia poco che funzioni, visto che le tangenti sembrano essere una strada da abbattere per avere risposte immediate, che la burocrazia è un percorso ostacoli, che i servizi e le imprese hanno un livello qualitativo. I tempi di attesa della giustizia nella risoluzione dei problemi legati alle attività imprenditoriali sono lunghissime e soprattutto incerti. La ricerca dell'Associazione del Commercio si basa sui dati diffusi dalla Banca Mondiale e dal World Economic Forum, che hanno individuato alcuni criteri di riferimento per poter osservare e giudicare il rapporto tra apparato statale e imprese. Tra questi ci sono l'efficienza del quadro normativo, l'irregolarità dei pagamenti e i tempi della giustizia, parametri a cui l'Italia non riesce proprio a uniformarsi in senso positivo, con conseguenti ricadute sul sistema economico che resta incastrato in una ragnatela di marche da bollo, code e uffici chiusi o sbagliati. Basti solo pensare che per assolvere alcune pratiche burocratiche il titolare di un'impresa privata in Italia impiega 5 ore in più che in Lussemburgo, dove tutto evidentemente funziona e fila liscio.